Buonasera, benvenuti con noi in studio questa sera, con me ci sono Giuseppe Torchio, consigliere provinciale, abbiamo Francesca Pontigia, invece del Comitato Acqua Pubblica, come potete vedere anche dal nostro titolo oggi parliamo di acqua, vogliamo fare il punto su questa importante risorsa che ha mobilitato i cittadini, i comitati, la politica, adesso ci troviamo a dover analizzare qual è la natura di questo nuovo soggetto, il gestore unico del servizio idrico integrato per la provincia, la nascita di questo nuovo soggetto accompagnata da molti moti popolari e anche politici, molti dibattiti, molte polemiche, qualche ricorso al TAR, la questione non è ancora del tutto chiusa, quindi cerchiamo di ripercorrere quelle che sono state un attimo le tappe salienti, innanzitutto adesso a che punto siamo? C'era stata un'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del lato che dava di fatto il via libera alla nascita di una gestione mista pubblico privato, in realtà adesso è un pericolo che pare per il momento scongiurato, quindi è un punto a favore per chi sta lottando per mantenere pubblica l'acqua? Io direi gatto quando è nel sacco, qui pende un ricorso di tre comuni, San Daniele, Motta e Torre Piccenardi contro questa delibera del lato, quindi siamo in attesa e almeno su uno dei quattro punti chiave mi pare che ci sia la possibilità di vincere, qual è? Quello che riguarda la cosiddetta remunerazione del capitale, ma furbescamente è stato modificato il tiro e adesso è stata assunta una delibera diversa, che però è già stata, mi dicono, oggetto di attenzione da parte del Forum Nazionale dell'Acqua e probabilmente anche su questa ci saranno delle iniziative, ma torniamo al nostro argomento. Il Consiglio provinciale che su questa vicenda si è espresso su una mozione della Lega votata anche dalle altre forze politiche, in particolare del centro-sinistra, dice che la titolarità e la proprietà delle aziende deve ritornare in capo i comuni per fare un soggetto unico che sia gestito dagli stessi comuni, quindi si va verso l'indicazione in maniera chiara, esemplare, ma è proprio anche delle province del nord della regione dove comanda la Lega, di una gestore pubblico, questo è avvenuto anche a Lodi dove il Presidente Foroni è stato eletto in Consiglio regionale per la Lega, è avvenuto anche a Varese dove Galli è uno dei sottosegretari del governatore Maroni, è tranquilla e pacifica anche a Bergamo dove c'è un Presidente della provincia della Lega, allora come è possibile che solo a Cremona ci sia una così forte pressione perché si vada alla privatizzazione? Non ci riconosciamo negli extraterrestri, immagino sulle nostre posizioni, facciamo tesoro di una linea comune a tutte le altre realtà, la battaglia è dura perché se non è zuppa e pan bagnato, si è detto che è stata fatta una nuova delibera da parte del lato che sostanzialmente invece di remunerare il capitale remunera sostanzialmente il discorso degli investimenti, su questo ci sono delle posizioni molto distanti. Oggi ci sarà in questi giorni l'approvazione da parte del Consiglio provinciale del bilancio del lato, lì diremo anche come mai avendo fatto una società unica rispetto alle sette sorelle dell'acqua, così si chiamavano in gergo, sono le aziende, quella della E.M., quella della SCRP a Crema, le piccole aziende magari di Soresina, di Castelleone, quella di Pandino che è stata assorbita, eccetera, oltre che a Padani Acque. Si è fatto un'unica società, adesso però si deve fare una nuova sede e si dà la convittenza esterna a prescindere dai tecnici tra i 170 dell'organico delle società. Si deve fare uno studio, lo si affida alla KPMG che ha una sede enorme faraonica proprio nei pressi della regione Lombardia, come se all'interno delle società o all'interno delle municipalità o della stessa provincia non ci fossero le competenze per questi studi. Abbiamo dei costi gestionali che crescono, nonostante questo continuiamo ad affidare delle consulenze esterne. Per carità, anche la KPMG deve vivere, però se noi dobbiamo fare un discorso sull'acqua pubblica o l'acqua privata dovremmo avere le competenze a livello territoriale per poter mettere giù dei piani che riguardano gli investimenti, il personale, le sedi e quant'altro. Allora immagino con i comuni che si devono tagliare le vene per poter arrivare a fare i bilanci se noi possiamo continuare a dare consulenze esterne, grasso che cola, quando non c'è la possibilità. Ecco, oltre questo argomento che sicuramente è importante perché ovviamente spendere i soldi, spenderli bene, spenderne il meno possibile è sempre una priorità, vediamo che comunque per il nostro territorio appunto la domanda prima era come mai noi ci vogliamo intestardire nella società mista quando la volontà popolare è un'altra. Sappiamo però che anche il nostro assessore comunale aveva detto che per la provincia era l'unica soluzione possibile. Ora sembra scongiurato questo pericolo della società mista, in realtà è così oppure ci possiamo aspettare altri colpi di mano rispetto a questa situazione. Beh, il comitato acqua sicuro di aver scongiurato il pericolo non lo è mai, infatti uno dei nostri compiti principali è quello di monitorare costantemente l'azione della giunta provinciale e dell'autorità d'ambito. Noi abbiamo deciso di intervenire al ricorso al TAR che citava lui prima e abbiamo deciso di intervenire con un punto, con il quarto punto del ricorso al TAR che riguarda proprio la remunerazione del capitale investito. Noi siamo molto fiduciosi di vincere il ricorso su questo punto perché il piano d'ambito approvato prevedeva appunto la remunerazione del capitale investito che è stato abolito dal referendum. Ecco, spieghiamo bene per i profani, questa è una voce che compare in bolletta? È una voce che compare in bolletta, è una voce che paghiamo, è una voce che varie sentenze dalla Corte di Cassazione ai vari TAR in Italia, l'ultima è il TAR del Lazio che si è espressa, hanno già sancito che è illegale e illegittima inserirla in bolletta dal luglio del 2011. Quindi noi continuiamo comunque a pagare una piccola quota di remunerazione del capitale investito. Oggi si riunisce una commissione provinciale per valutare una delibera di giunta provinciale approvata settimana scorsa che prevede di fatto una variazione della tariffa e praticamente vogliono adeguarla alla proposta fatta dall'autorità dell'energia che era stata incaricata a suo tempo di predisporre appunto una tariffa standard su tutta Italia. Purtroppo oggi come Comitato Acqua Pubblica ci troviamo a dover diffidare l'autorità d'ambito da recepire questa nuova tariffazione perché abracadabra la remunerazione di capitale investito è stata trasformata nelle parole oneri finanziari. Quindi si tenta ancora una volta di eludere l'esito referendario e su questo punto il Comitato non starà fermo perché è chiaro che un privato ha interesse a entrare nella gestione dell'acqua esclusivamente se c'è la remunerazione del capitale investito. Altrimenti tolto il guadagno non si capisce perché il privato dovrebbe fare filantropo. Anche perché c'è già il precedente che su iniziativa dei consumatori che attraverso delle forme nuove di class action si chiamano così adesso hanno stabilito, sono riusciti ad ottenere per esempio che il cosiddetto cannone di depurazione che viene applicato anche nei paesi o nelle frazioni dove non c'è il depuratore debba essere restituito perché poi alla fine è lunga la vicenda giudiziaria o giuridica in Italia però arriva a delle conclusioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel bilancio delle aziende o della futura azienda delle risorse che devono essere restituite ai cittadini laddove non esiste il servizio di depurazione. Vogliamo andare avanti così anche per quanto riguarda la remunerazione del capitale o degli oneri finanziari? Alla fine andremo a sbattere le corna e probabilmente... Allora, oggi ci sono 5 milioni di euro in cassa che stanno arrivando da una sentenza che dovrebbe essere prossima nella quale Padani Acque si è costituita contro la direzione provinciale delle entrate, l'ufficio provinciale delle entrate e che riguarda le cosiddette aiuti di Stato. Sta andando molto bene, siamo vicini alla definizione. Nel frattempo sono stati recuperati circa 25 milioni di euro dalla tariffa per quanto riguarda i futuri investimenti. Bene, avremo circa una disponibilità di 30 milioni. Si può partire sull'area degli investimenti per il piano d'ambito, ma ovviamente deve esserci anche una garanzia su quale è l'azienda che lo gestisce, se rimane pubblica e allora a questo punto si potrebbe anche fare un ragionamento con gli stessi comitati, perché il gioco comunque vale la candela, non si chiede a loro di rinunciare ai loro principi, ma si chiede di tenere questa disponibilità nelle mani di un investimento e di un soggetto pubblico che serve a tutta la comunità. Abbiamo dei grani notevoli, pensiamo solo alla questione dei nitrati che molti scaricano direttamente nei depuratori e quindi alla fine c'è un'infrazione europea che incombe, quindi ci sono dei problemi notevoli e abbiamo bisogno di risorse. La seconda questione riguarda il patto di stabilità, sappiamo che ci sono 20 mila cantieri fermi in Italia e gli enti locali hanno le risorse per fare gli investimenti ma non li autorizzano, non li autorizzano perché pur avendo le risorse a disposizione sono bloccate da questa disposizione del governo Monti. Negli otto punti di Bersani come nei punti del Cavaliere, non parlo di quelli di Beppe Grillo, comunque tutti dicono che va sbloccato questo problema, il sindaco di Firenze è in prima linea anche lui, quindi su questo si dicono tutti di essere d'accordo ma c'è il blocco. Allora è evidente che se ci sono le risorse degli enti locali si mantiene la società pubblica, diversamente i privati continueranno a girare attorno per avere in mano in un sol boccone un'operazione così remunerativa e non penso che i privati vengono dentro per fare una carità cristiana. No certo, quindi fra quanto, insomma sono tutti argomenti correlati e quindi fra quanto potremmo avere un'idea di quello che ci aspetterà qua in provincia? A maggio c'è preannunciata la convocazione dell'assemblea dei sindaci del lato e che dovrebbe pronunciarsi su questa vicenda e nel frattempo però siamo in attesa delle definizioni anche dei procedimenti che sono stati aperti e dal comitato acqua pubblica e dai tre sindaci rispetto appunto alle questioni chiave. Io penso che il buon senso abbia appunto a prevalere. Sì, poi diciamo che l'opinione della maggior parte dei cittadini è stata più volte dimostrata e palesata attraverso non solo il referendum ma poi tutte le battaglie e la partecipazione a questo tema che è comunque alta. Altre questioni riguardano proprio anche il fatto delle tariffe, appunto avevamo iniziato a parlare prima, sappiamo che anche a Cremona aumenta la difficoltà di moltissime famiglie a far fronte ai bisogni, a far fronte al pagamento delle bollette quindi anche di questo l'acqua pubblica si è occupata, il comitato acqua pubblica si è occupata per cercare di trovare una risposta diciamo a favore di questi cittadini almeno attraverso una rateizzazione. Sì, diciamo che il comitato acqua pubblica ha deciso di intervenire sull'argomento di stacchi perché ritenendo che l'acqua sia un bene fondamentale ed essenziale alla vita noi riteniamo che sia assolutamente insostenibile e inaccettabile in una società civile che alcune persone siano lasciate senza acqua e poi anche senza gas e senza luce. È stata più volte dimostrata e palesata attraverso non solo il referendum ma poi tutte le battaglie e la partecipazione a questo tema che è comunque alta. Altre questioni riguardano proprio anche il fatto delle tariffe, appunto avevamo iniziato a parlare prima, sappiamo che anche a Cremona aumenta la difficoltà di moltissime famiglie a far fronte ai bisogni, a far fronte al pagamento delle bollette, quindi anche di questo l'acqua pubblica si è occupata, il comitato acqua pubblica si è occupata per cercare di trovare una risposta a favore di questi cittadini, almeno attraverso una rateizzazione. Sì, diciamo che il comitato acqua pubblica ha deciso di intervenire sull'argomento di stacchi perché ritenendo che l'acqua sia un bene fondamentale ed essenziale alla vita noi riteniamo che sia assolutamente insostenibile e inaccettabile in una società civile che alcune persone siano lasciate senza acqua e poi anche senza gas e senza luce. Ma noi restando nei primi danni, ci occupiamo di acqua e quindi ricordiamoci che quando parliamo di distacco di acqua in una casa parliamo di distacco di acqua igienico-sanitaria, quindi al di là della comodità di farsi la doccia in casa ci sono tutta una serie di problematiche sanitarie correlate, per cui riteniamo che il sindaco abbia il dovere di intervenire presso l'azienda, presso AEM che adesso non è più azienda energetica municipalizzata perché se lo fosse il sindaco potrebbe intervenire più incisivamente. Noi insomma chiediamo che il sindaco intervenga affinché venga garantito oltre la rateizzazione, qua non si parla di tutelare i furbi, si parla di tutelare i disabili, famiglie con minori, pensionati che faticano ad arrivare alla fine del mese. Allora noi vorremmo che il sindaco si facesse garante di queste problematiche e oltre a scaricare il tutto sui servizi sociali che i poveretti fanno ciò che possono, metta in qualche modo, faccia un'ordinanza per garantire un minimo vitale di acqua all'interno di tutte le case dei cremonesi. Ecco, sempre per l'acqua bene comune, ricordiamo la petizione che adesso state portando avanti, che è l'iniziativa dei cittadini europei per chiedere alla Commissione europea che le risorse idriche siano messe fuori dal mercato e quindi al riparo di tentativi di privatizzazione. È una petizione ancora aperta questa? È una petizione ancora aperta, si può firmare sia online che ai banchetti che sono presenti comunque in tutta Italia. È secondo me, secondo tutto il Comitato, un'occasione per esportare democrazia. Per una volta l'Italia si fa promotore di una petizione europea per portare oltre il confino nazionale il bel risultato di civiltà che si è ottenuto in Italia. Se siamo tutti d'accordo che l'acqua è un bene essenziale alla vita, allora non possiamo più soccombere alle accuse della comunità europea, cioè alle accuse più che accuse, ai tentativi della comunità europea di imporre la privatizzazione negli Stati membri. Io credo che sia l'occasione per esportare, diciamo, oltre alla nostra democrazia anche un nostro valore molto forte. E scusami, volevo fare un passaggio indietro, ritornando un attimo al Tare, a quanto diceva anche lui prima, che gli amministratori non si illudano che il Comitato attenda la tempistica dei tribunali italiani, nel senso che il Comitato acqua pubblica cremonese ha già aderito alla campagna di obbedienza civile del Forum nazionale dell'acqua, per cui nel caso in cui l'autorità d'ambito decida comunque di inserire la remunerazione di capitale investito con qualunque nome gli voglia dare, a noi non interessa, noi faremo partire questa campagna e quindi tutti i cittadini della provincia di Cremona che hanno votato il referendum non pagheranno questa quota di remunerazione del capitale investito quando andranno a pagare la bolletta, perché la legge ci dice che noi questa parte di remunerazione non la dobbiamo pagare, noi obbediamo e non la paghiamo. E questa volta è un non pagare legale, assolutamente legale. Infatti è il concetto che si traduce in un proverbio antico che l'invidia muore nelle mani dei coglioni, ed è proprio la sintesi di un'operazione malnata che può anche essere migliorata in corso d'opera. Ecco, allora chiudendo questo approfondimento, questo breve spazio, vorrei soltanto ricordare che per esempio a Reggio Emilia è stato modificato lo statuto comunale, sancendo l'accesso all'acqua potabile come diritto umano ben inalienabile e quindi la gestione del servizio idrico integrato è stato deciso che non perseguirà alcuno scopro di lucro e viene sottratta alla libera concorrenza. Con questo esempio virtuoso, insomma, cerchiamo anche noi di procedere nella direzione di mantenere l'acqua, questa risorsa essenziale alla vita, un bene pubblico. Grazie per averci seguito, grazie ai nostri ospiti. Grazie, buonasera. Buonasera.